Il modo migliore di celebrare San Giosa ha fatto amarci tra noi, amare e servire l'unità della Chiesa. Ci sostiene in questo la testimonianza coraggiosa di tanti martiri dei tempi recenti, che costituiscono una grande ricchezza e un grande conforto per la vostra Chiesa. Lo ha sottolineato Papa Francesco, parlando ai pellegrini ucraini, a Roma, per il cinquantesimo anniversario della traslazione delle reliquie di San Giosa fatta nella Basilica Vaticana. Il Papa ha sottolineato l'importanza della comunione nella Chiesa, affinché ogni aspetto della nostra vita cristiana, ha detto, possa essere animato dal desiderio di costruire insieme, di collaborare, di imparare gli uni dagli altri, di testimoniare la fede insieme.